L'addio degli Ultras di Bari, finisce qui la nostra storia. Adesso la scelta sembra essere definitiva. Gli Ultras Bari 1976 non esistono più. Si sono sciolti semplicemente perché si sono dispersi nel vento gran parte dei motivi di aggregazione e perché, questo va sottolineato, è stato molto ma molto faticoso e a volte rischioso tenere insieme e motivare in qualche modo guidare la curva nord del Bari per 36 interminabili anni. Gli Ultras non sono il primo storico gruppo che si scioglie nel movimento italiano. Ad esempio fece scalpore l'addio delle brigate gialloblu del Verona, lo storico gruppo dello scudetto dei Veneti, ma negli anni anche la fosse del Milan, gli irriducibili della Lazio, il Cux Roma. Motivi diversi ma sostanzialmente tutti legati all'impossibilità di continuare ad essere nel tempo quelli che erano stati. Il dado è tratto. Al debutto del Bari contro il Cittadella, la curva nord non avrà più un gruppo guida a dirigere cori e movimenti, anche se i ragazzi saranno come al solito tutti al loro posto. I giallorossi leccesi cedono il posto in Serie B al ripescato Vicenza. Il Lecce di Mister Lerda finisce così nel girone A di Lega Pro con Alvinolef, Carpi, Virtus Entella, Comu, Cremonese, Cunio, Feralpi, Salò, Lumezzane, Pavia, Portogroaro, Reggiana, San Marino, Sud, Tirol, Trapani, Treviso e Trizium.